lunge shadow 115 nuovo scarpone per la stagione 2023 2024 nuova struttura completamente ridisegnata con tecnologie suspension blade dual pivot per un maggiore effetto leva e flex progressivo per un maggior trasferimento di energia nuova scarpetta senza cuciture con tecnologia a nido d'ape oxytics technology per adattarsi alle forme naturali del piede ha una vestibilità anatomica con una pianta di 97 millimetri lange shadow l'ho messo facilissimamente cioè come mettere una ciavata praticamente quindi bellissimo potrei mettere anche da in piedi super comodo mi avvolgeva bene il piede però senza far pressione da nessuna parte quindi nessun punto di contatto particolare veramente comoda dentro comoda camminare quindi vediamo se tiene anche bene perché veramente veramente comodo è uno scarpone molto confortevole non avvolge particolarmente il piede infatti chi ha una pianta un po più larga come me va molto bene non blocca particolarmente il tallone ma il piede dentro è comunque abbastanza stabile